Siamo oggi molto onorati di avere in audizione il Ministro Luciano Lamorgese, che ringrazio sentitamente per la sua disponibilità a intervenire ai lavori della nostra Commissione. Do quindi ora la parola al Ministro Lamorgese per l'illustrazione della sua relazione. Grazie Presidente. Onorevoli componenti della Commissione, vi sono grata per questo invito che mi consente di esporre alcune delle iniziative messe in campo dal Ministero dell'Interno per il contrasto delle forme di intolleranza riconducibili al fenomeno dei cosiddetti discorsi d'odio e dei crimini d'odio. Come noto, negli ultimi anni il fenomeno dell'incitamento all'odio per motivi di discriminazione è divenuto sempre più invadente e corrosivo. Colpisce e preoccupa soprattutto la portata globale raggiunta in pochi anni da tale fenomeno, favorita dall'accessibilità delle tecnologie della comunicazione e dell'anonimato che la rete offre. L'estrema pericolosità del discorso d'odio sta nel fatto che scatena pulsioni antisociali potenzialmente capaci di alimentare, soprattutto nei soggetti più deboli e suggestionabili, forme emulative incontrollate, basate su pregiudizi stereotipati, figlie di una sottocultura che considera il diverso, l'altro da sé come un nemico da abbattere o una minaccia da allontanare. Storicamente l'incitamento all'odio ha riguardato la razza, il credo religioso, l'orientamento sessuale. Le più recenti manifestazioni del fenomeno, a riprova della sua disumanità, hanno preso di mira persino le disabilità e la malattia. Per una società aperta e democratica sarebbe un errore sottofalutare la forza disgregatrice di tale fenomeno che produce nei vari ambiti della società mettendo in pericolo la stessa convivenza civile. La crescente consapevolezza a livello internazionale della pervasività dei discorsi d'odio ha indotto i governi negli ultimi anni a reagire anche in termini di cooperazione internazionale mettendo in atto strumenti regolativi, prassi operative condivise. Occorre riconoscere tuttavia come uno dei principali ostacoli a una migliore e più efficace con la cooperazione internazionale sia anche rappresentato dalla mancanza di armonizzazione tra le normative nazionali in relazione al concetto di crimine d'odio e discorso d'odio. A livello europeo la base giuridica più pregnante rimane la decisione quadro del novembre 2008 che si pone l'obiettivo di rendere perseguibili con lo strumento della sanzione penale crimini e discorsi d'odio aventi matrice razzista o xenofoba e di promuovere la cooperazione giudiziale in tale ambito. Per effetto di tale decisione quadro l'articolo 604 ter del codice penale configura come circostanza aggravante l'essere stato il reato commesso con una motivazione razzista e xenofoba. Nel nostro ordinamento come del resto in molti altri sistemi giuridici manca tuttavia una definizione del discorso d'odio né esso è incriminato in quanto tale. Sono invece puniti specifici comportamenti assimilabili a questo concetto e li prevede ad esempio l'articolo 640 bis del codice penale che fa rientrare la propaganda di idee basate sulla superiorità razziale, sull'odio etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza su base etnico, razziale o religiosa, il negazionismo della Shoah, la creazione o la partecipazione a organizzazioni volte a propagandare la superiorità di una razza o a estigare alla violenza per finalità di razzismo. Tuttavia mentre sussistono difficoltà nel processo di avvicinamento delle normative a livello internazionale in materia di lotta ai crimini d'odio i governi nazionali hanno dato forte impulso a una cooperazione operativa di polizia che si è rivelata fruttuosa e che vede l'Italia in primissima fila nei diversi aspetti connessi proprio al contrasto di questi episodi. E credo anche sia utile fordirvi alcuni elementi di conoscenza e valutazione sugli aspetti operativi sviluppati dalle nostre forze di polizia nella lotta ai crimini d'odio e ai discorsi d'odio. Partirei dall'evidenziare innanzitutto i risultati che sono stati conseguiti nel 2020 e quelli realizzati nei primi otto mesi dell'anno in corso allorché attraverso l'operato della DIGOS presso le questure della direzione centrale della polizia di prevenzione che le coordina sono state informate le procure della Repubblica competenti riguardo a episodi di discriminazione, di odio che hanno portato all'avvio di indagini e in diversi casi anche all'identificazione degli autori. Per quanto riguarda l'azione di contrasto delle violazioni alla cosiddetta legge Mancino del 1993 è stato portato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 alla denuncia di 106 persone e all'esecuzione di 21 arresti. Nei primi otto mesi dell'anno in corso, quindi 2021 tale azione ha portato alla denuncia di 69 persone e all'effettuazione di 5 arresti. Nel nostro Paese gli sforzi si sono concentrati sul superamento di particolari fattori di criticità costituiti dalla scarsità delle denunce da parte delle vittime e dalla difficoltà di riconoscimento della matrice discriminatoria. Rispetto a questi due fattori l'Italia ha fatto considerevoli progressi che hanno contribuito a una maggiore emersione del fenomeno. In questo ambito assolutamente un attore chiave si è rivelato l'OSCAD che è l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori che è un organismo interforze costituito nel 2010 presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza proprio per rispondere alla domanda di protezione e alla maggiore tutela delle persone appartenenti alle categorie vulnerabili. Uno dei compiti principali dell'OSCAD è tuttavia non esclusivo è quello di agevolare le domande le denunce dei crimini d'odio perché come dicevamo le denunce non sono molte quindi vanno anche incentivate quindi coloro che purtroppo sono vittime di questi episodi devono essere sempre più portate a denunciare e a far emergere questo orribile reato. Accanto ad esso sono perseguite altre finalità consistenti nel condurre anche un efficace monitoraggio del fenomeno anche attraverso un'analisi delle fonti aperte anche nel sensibilizzare formare e aggiornare gli operatori delle forze di polizia per svilupparne le competenze in un campo d'azione difficile ma di assoluta rilevanza. Una delle maggiori criticità è come dicevo è rappresentata proprio dalla scarsità delle denunce tra le cui cause figura il sentimento di vergogna del timore che spesso la vittima avverte e che in mancanza di un forte sostegno legale o psicologico lo induce e induce la vittima a un atteggiamento rinunciatario un atteggiamento remissivo e a questo scopo è stato attivato un indirizzo di posta elettronica destinato proprio alla ricezione di segnalazioni da parte di persone fisiche o giuridiche che ne consente la raccolta anche in forma anonima tutto ciò per agevolare e non creare questo senso di disagio di chi invece deve fare la denuncia e nella stessa logica di incentivare le denunce si muovono anche delle importanti opere di sensibilizzazione svolte dalle nostre forze di polizia e rivolte al pubblico ricordo per esempio c'è un'iniziativa una vita da social campagna itinerante giunta ad essa all'ottava edizione mantenuta anche durante il periodo di lockdown durante il 2020 è dedicato al mondo della scuola ci ho partecipato anche io quindi con tutte le scolaresche proprio per stimolare nei giovani un rapporto equilibrato con le tecnologie informatiche e rifiuto di atteggiamenti lesivi della dignità delle persone nel corso del 2020 il progetto ha portato gli operatori di polizia a incontrare 134.000 giovani 7.000 genitori 9.000 insegnanti in 1.240 istituti scolastici per i quali è stata messa a disposizione un'email dedicata la formazione come dicevo è un'altra priorità strategica dell'Oscad fin dalla sua istituzione per garantire un'offerta formativa aggiornata multidisciplinare l'osservatorio ha intensificato le relazioni con i più qualificati attori istituzionali e della società civile con cui sono state elaborate anche delle attività formative congiunte cito ad esempio la collaborazione con l'UNAR l'ufficio nazionale antidiscriminazione razziale della presidenza del consiglio col quale fin dal 2011 è stato stipulato un siglato un protocollo d'intesa ma desidero anche ricordare altri protocolli che sono stati portati avanti con Amnesty International con l'unione delle comunità ebraiche italiane quest'ultima proprio ha consentito di realizzare iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni sugli episodi di matrice antisemita e sia la diffusione di una guida all'ebraismo per operatori di polizia molto apprezzata un dato significativo sugli esiti di questo impegno formativo è che alla data del 31 agosto 2021 sono stati formati complessivamente 38.600 operatori sempre in chiave di sviluppo di iniziative di formazione intensa la collaborazione dell'OSCAD a livello internazionale l'osservatorio partecipa regolarmente al gruppo di alto livello della commissione europea contro razzismo xenofobia e altre forme di discriminazione e anche ai tavoli di lavoro tematici che si svolgono in Europa il primo il prossimo ottobre l'OSCAD realizzerà un'azione formativa in collaborazione con l'OSCE sui comportamenti più adeguati che gli operatori di polizia sono chiamati a seguire nelle circostanze in cui si relazionano con soggetti appartenenti a comunità rom sinti camminanti spesso oggetto di di una stigmatizzazione razziale anche nell'ambito dell'Unione europea si registrano iniziative che hanno un particolare interesse infatti a novembre di quest'anno quindi tra un mese l'OSCAD in collaborazione con CEPOL che è l'Agenzia europea per la formazione delle forze di polizia organizzerà proprio un corso tematico sui crimini d'odio con l'obiettivo di fornire analisi buone pratiche strumenti investigativi che possono essere poi condivisi con gli altri paesi e anche con uno scambio informativo delle pratiche che i singoli paesi hanno trovato nel loro ambito l'OSCAD non si limita a monitorare il fenomeno ma si integra anche nell'azione di contrasto svolta da diverse specialità delle forze di polizia in una logica di sistema contribuendo appunto ad alimentare un circuito virtuoso di monitoraggio analisi valutazione e anche modalità di intervento quindi l'OSCAD veicola alle competenti articolazioni specialistiche delle forze di polizia le segnalazioni ricevute mettendoli a sistema con quelle reperite anche su fonti aperte con le risultanze investigative e di analisi che le forze di polizia restituiscono o mettono a disposizione dell'organismo questo metodo di lavoro finisce con generare una più chiara comprensione anche dei singoli episodi criminosi una visione d'insieme del fenomeno a livello nazionale anche un più mirato intervento sui casi specifici sui casi individuali si pensi per esempio tra i tanti possibili esempi all'interazione tra OSCAD e le DIGOS territoriali per combattere le manifestazioni diciamo aventi negli aspetti di razzismo negli stadi o tra OSCAD e la polizia postale e delle comunicazioni per il contrasto online dell'odio online con la necessità di svolgere c'è poi anche delle attività di pattugliamento virtuale in rete voi sapete che in questo periodo purtroppo di pandemia anche i reati via web sono aumentati di molto rispetto agli altri dati che abbiamo dei reati quindi è l'unico tipo di reato reati sul web che hanno avuto una percentuale di aumento significativo rispetto agli altri che invece durante il periodo di pandemia hanno avuto un rallentamento quindi l'esperienza quindi di contenimento di questi mesi mostra che il successo dell'azione di contenimento delle forme illegali di incitamento all'odio in rete ha determinato anche un aumento delle discussioni all'interno delle piattaforme meno collaborative con le istituzioni e mi riferisco a Telegram o a V Contacte cioè quelle che per politica aziendale garantiscono l'anonimato purtroppo l'abbiamo visto anche di recente in altri episodi e complicano l'identificazione degli autori dei messaggi d'odio in particolare Telegram risulta quella preferita per la diffusione di materiale multimediale e soprattutto di comunicazioni riservate in quanto attraverso lo sviluppo di sistemi complessi di criptografia dei dati garantisce un elevato livello di sicurezza dei contenuti condivisi dagli utenti che possono rimanere anonimi e creare canali con un numero di utilizzatori praticamente illimitato la tutela della privacy degli utenti elemento peculiare della polisi aziendale di Telegram costituisce una seria difficoltà investigativa per il perseguimento dei reati d'odio e a ciò si aggiunga sempre per quanto riguarda il profilo repressivo che le indagini di polizia giudiziaria vengono rese complesse dal fatto che la maggior parte dei social network e degli spazi virtuali che ospitano messaggi negianti all'odio e alle violenze discriminatorie hanno le proprie sedi sociali all'estero circostanza che rende necessaria da parte dell'autorità giudiziaria competente una richiesta di mutua assistenza legale reciproca quindi è complicato perché molte volte stanno a Singapore o altre realtà completamente lontane da noi e quindi allo scopo quindi di dare conto dell'azione di contrasto dei discorsi e dei crimini d'odio ricordo come delle importanti inchieste ad esempio in Toscana in Sicilia oltre ad intercettare seri pericoli di matrice eversiva abbiano poi disvelato anche i rischi della realtà virtuale che permette di produrre e divulgare contenuti intrisi di messaggi razzistici discriminatori mediante mezzi tecnologici di larga diffusione e di impiego comune come gli smartphone i tablet quindi l'indagine Toscana ad esempio ha documentato a suo tempo la creazione di una chat che su Whatsapp utilizzava per la diffusione di slogan e contenuti apertamente antisemiti e xenofobi ulteriori rigurgiti di antisemitismo sono stati registrati lo dicevo prima durante la pandemia quando in corrispondenza a quelle misure di restrizione adottate dal governo per contenere il contagio sono state effettuate intrusioni telematiche a volte proprio in occasione di convegni sull'ebraismo nel corso delle quali sono stati esternati slogan antisemiti e quindi soprattutto relativi al nazifascismo naturalmente l'azione preventiva si estende a tutti i possibili ambiti in cui si manifestano forme di discriminazione o di incitamento all'odio alla violenza ad esempio nel 2019 il dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato delle apposite indicazioni circa la possibilità anche di sospendere gare calcistiche laddove ci fossero state manifestazioni di razzismo o discriminazione così anche in ambiti di eventi sportivi in generale un altro fenomeno da ascrivere alle manifestazioni d'odio è quello del cyberbullismo che preoccupa desta indignazione anche per le tragiche conseguenze che talora registriamo e che visto che alcuni minori purtroppo poi ne sono rimasti vittime il cyberbullismo consumandosi appunto nello spazio virtuale del web risulta ancora più pernicioso rivolgendosi a una platea varia estesa di spettatori che possono partecipare anche in maniera attiva ai contenuti lesivi di cui vengono a conoscenza e su questo fronte il versante preventivo è stato rafforzato anche con l'introduzione dell'ammonimento del questore previsto dalla legge del 2017 da numero 71 l'uso di questo strumento è possibile ad alcune condizioni quando un fatto discriminatorio sia commesso mediante internet da un minore ultra quattordicenne nei confronti di un altro minore accanto alla funzione dissuasiva e deterrente di questa misura si è avuto cura di sviluppare iniziative di recupero del minore ammonito dall'autorità di pubblica sicurezza favorendone la partecipazione a percorsi di riabilitazione davvero come trattamenti specialistici a Milano per esempio è stato firmato un protocollo tra la questura e il centro italiano per la promozione della mediazione poi che è stato replicato anche da altre questure è incoraggiante anche il dato che segnala come tra i giovani che hanno volontariamente aderito all'iniziativa si registri poi un tasso di recidiva estremamente ridotto quindi contenuto quindi vuol dire che poi anche questa attività di riabilitazione ha poi degli effetti concreti un'altra misura è consistita nelle organizzazioni dell'iniziativa Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo frutto della sinergia tra la polizia postale e delle comunicazioni il MIUR e il Movimento Italiano Genitori Uniti questa iniziativa attraverso questa iniziativa gli studenti di varie scuole si sono resi protagonisti attivi in veste appunto di ambasciatori della lotta al cyberbullismo rappresentando per altri loro coetanei vittime di aggressione un punto di riferimento concreto per segnalazioni per richieste di aiuto perché tante volte i ragazzi tra di loro hanno una maggiore facilità di comunicazione che non con gli adulti l'ambito di prevenzione è stato poi rafforzato dal decreto legge del 130 del 2020 che voi ricorderete il caso di Guilli il ragazzo vicino a Frosinone che fu ucciso proprio da ormai i fatti sono ben noti ma noi proprio con riferimento a quello abbiamo introdotto delle disposizioni secondo cui abbiamo esteso il divieto di accesso il DASPO anche per quanto riguarda i delitti commessi per fini discriminatori e di odio allo scopo di agevolare l'attività di gruppi proprio per queste finalità quindi siamo intervenuti con un provvedimento innovativo perché l'abbiamo fatto il DASPO anche vicino alle discoteche oppure in quei locati di aggregazione quando ci sono stati quando ci sono inizi anche di risse si tratta di un intervento che amplia l'estensione dei divieti proprio in ragione della motivazione razziale del reato e quindi questi questi elementi credo che anche i dati che poi sono emersi e che vi ho detto prima mi pare che danno anche il segnale di tutta l'attività preventiva perché secondo me è molto importante l'attività preventiva quando poi purtroppo un fatto è successo vuol dire che è tardi siamo arrivati tardi quindi è certamente un fallimento quindi l'amministrazione deve operare sempre in via preventiva per evitare appunto che succedano problemi di questo tipo e quindi d'altra parte l'analisi dei discorsi d'odio non può prescindere anche da un'ulteriore forma di imbarbarimento del comportamento sociale rappresentato dalla diffusione di messaggi intimidatori nei confronti di giornalisti della carta stampata come anche di altri organi di informazione si tratta questa di una pericolosa deriva seguita con grande attenzione dalla nostra Polizia Postale delle Comunicazioni la cui azione investigativa e di prevenzione viene a connettersi con attività di analisi monitoraggio scambio permanente di informazione sugli atti intimidatori a danno dei giornalisti demandata proprio a un centro di coordinamento istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale e io stessa ho costituito un tavolo permanente proprio per con i giornalisti per le molto spesso vittime di aggressione non solo verbale purtroppo come è capitato negli ultimi tempi con riguardo appunto a queste condotte minatorie vorrei dire che sono stati trattati tra gennaio 2020 e agosto 2021 75 eventi principalmente a seguito di denunce presentate dalle vittime le indagini talora svolte con sinergia con le squadre mobili e le digos delle singole questure hanno permesso di identificare 26 soggetti indagati in relazione a 12 eventi delettuosi da questa attività investigativa e repressiva è emerso che il social network maggiormente utilizzato per la pubblicazione di frasi ingiuriose è risultato essere Facebook a cui si è fatto ricorso in 41 episodi e non sono soltanto note firme del giornalismo ad essere bersaglio di minacce e offese ma anche giornalisti diciamo meno conosciuti di testate locali proprio a conferma del fatto che tale fenomeno prescinde dalla risonanza mediatica delle inchieste giornalistiche che vengono condotte vorrei sono davvero alla fine vorrei concludere ribadendo con la massima forza che i comportamenti di intolleranza motivati dalla matrice discriminatoria offrendono non solo la singola vittima e la sua dignità ma anche vanno contro quelli che sono i principi della carta costituzionale le regole di base di ogni società democratica pluralista ispirata a valori di solidarietà e di libertà nella società contemporanea è particolarmente pericoloso l'effetto virale che scaturisce dai discorsi dai crimini d'odio che rischia di erodere anche la coesione sociale e di banalizzare perché il rischio è questo che si arrivi a una banalizzazione delle discriminazioni e questa è la ragione principale per la quale tutte le istituzioni il ministero dell'interno in prima linea devono combattere le retoriche della discriminazione lavorare nella costruzione di una cultura civile del vivere insieme che promuova i principi fondanti della democrazia rappresentata appunto da quei principi che dicevamo prima dignità umana conseguente rifiuto della violenza persecutoria segregativa che si annida nei fenomeni d'odio ho ritenuto di farvi un quadro un po' generale dando avvi anche dei dati perché secondo me è un argomento molto importante e quindi su cui poi si può aprire una discussione grazie la ringrazio signor ministro per la sua interessantissima relazione grazie a tutti grazie a tutti